Potrebbe riaprire come ospedale Covid a breve il Giovanni da Procida di Salerno, l'aumento di casi che è stato registrato in campagna alla base della decisione. Oggi a Napoli, dopo l'allarme lanciato ieri, non appena rialetto dal governatore Vincenzo De Luca, l'incontro con i direttori generali di Asle, aziende ospedaliere, che ha avuto al centro proprio l'emergenza coronavirus e le strategie da mettere in campo, sia in via di prevenzione che di cura. Più volte il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Salerno, Vincenzo D'Amato, aveva detto che la possibilità non era da escludere e che in pochi giorni, se necessario, sarebbe stato possibile riattrezzare il nosocomio di Via Calenda ad ospitare eventuali contagiati. Per trasformare la struttura in Covid ospital, ricordiamo, erano stati investiti 1.700.000 euro. L'azienda universitaria ospedaliera Ruggi d'Aragona aveva recepito il piano predisposto dalla regione Campania ed avviato le procedure per la trasformazione del plesso ospedaliero, realizzando 122 posti letto, di cui 14 nel reparto di terapia intensiva e 6 in subintensiva, realizzati al primo dei tre piani della struttura. Le attività dell'ospedale Covid erano iniziate nei primi giorni di aprile fino a fine maggio, quando grazie al lockdown c'era stata una notevole riduzione del contagio, consentendo allo scallato di scafati di poter assicurare tutti i posti letto necessari, ad assicurare le cure a chi era risultato infetto da Covid-19.